Mamma mia, ma sei fantastico tu. Sei proprio bellissimo, ma sei bello, bello. Sei bellissimo, sei morbido, sei giovane, ti devono solo adottare. Non ho capito, guardate, non nemmeno lo dite, ci suggeriscono dalla regina. Com'è bello, andiamo di qua, vieni a zia, vieni. Nemone, meno male che c'è zia Mena e zia Claudia. Oddio, pizza le ricche. Che è successo? Vai di là tu, perché sennò... Vieni, vieni, vieni. Claudia, veniti qua. Mamma, com'è bello, com'è bello. Sei bello proprio. Dov'è? Non lo vedo più. Eccolo, eccolo. Quel bellissimo, sei proprio bello, c'hai tutto il rivolo di bavetta qui. Dalida scrive bello, ma è magnifico. È magnifico. Eh vabbè, ma tu sei di parte. Io sono di parte, è vero, lo so. Io e Isetter abbiamo un amore. E' bello, dai, ma a prescindere. Grazie. Guarda qua. È bello. Ma vediamo, che fa con il Wuster? Il Wuster. L'ha perso e l'ha trovato. No, ma gli è piaciuto. Ma gli è piaciuto? Ma lui non ci l'ha fatto fatti, ci l'ha dato con lui, ma non muore. E vieni le cose schizzinose questi cani. Guarda. Ma lo mangia solo cotto. No, si invita. Si invita la gente a partecipare alla trasmissione, qua. Ho invitato Dalida. Che già stavo guardando. Sei bella, bravo. Mamma mia. Vediamo un po' di naso. Questo naso. Muro. Schifoso, bavoso. Sì, Claudia, vai un po' di naso indietro. Un po' più lontano. Un po' più lontano. No, non vediamo. No, non vediamo. Basta. Torna, cerca di correre un po'. Corri, corri. Mamma mia. Non mi è bello. Però non mi è bello. Sì. Sì, sì. Mamma mia, quanto è bello. Non mi è bello. Perché? Perché? Non mi è bello. Stoppo il video e faccio le foto. Torna, torna. Bravissimo. Infatti. Ma che parola torre? Quelli hanno la falcata. Questi quattro zampe in volo. Guarda quanto è bello. scodinzola anche un pochino. No, quando lo tocchi no. Ehi. Sto davvero stai. Quanto è bello. Allora, fai un po' un discorso. Dici, qualcuno mi adotta? Che sono così bello. Eh? Mi adottate che sono così bello? Io sono un signorino, vero? No, molto bello. No, molto bello. Grazie a tutti.